Ciao siamo Master Group, siamo l'Italia, adesso siamo presenti al TTG 2023, stiamo presentando il nostro programma unico e lanciando per il prossimo 20 dicembre 2023, questo programma sarà dedicato ai nostri clienti di tutta America, Latino America, Nord, Centro e Sud America, è un programma che dà l'opportunità di conoscere tutta l'Italia, da Nord a Sud e le nostre due isole, per questo dire sarà il più completo dal mercato, è una nostra grande avventura e già ha tantissime richieste, quindi per qualsiasi informazione siamo completamente disponibili, ricordatevi siamo Master Group. Allora l'azienda Master Group nasce oltre 20 anni fa, da sempre curiamo il turismo in tutta la destinazione Italia, 20 anni in realtà di evoluzione continua, nasciamo infatti come incoming tour operator e nel corso degli anni c'è stata l'esigenza di formare nuovi reparti, nuovi dipartimenti settorializzati, questo per venire incontro alle continue evoluzioni e cambiamenti di richieste da parte dei nostri mercati. Con i nuovi mercati dell'America Latina, degli Stati Uniti, Canada, abbiamo deciso appunto di ancora di più settorializzare il nostro prodotto per poter essere ancora più vicini ai clienti e rispettare le loro esigenze, questo perché da sempre in Master Group l'attenzione al cliente finale è la cosa principale e soprattutto a noi piace costruire i pacchetti proprio intorno alle esigenze di ogni cliente, ogni pacchetto è realmente differente dall'altro perché ogni mercato di riferimento può avere esigenze differenti, l'essenza di Master Group quindi è quello di costruire, di essere esalti delle vacanze in Italia, noi facciamo del nostro tailor made un punto di orgoglio. Puntiamo molto su dei prodotti di tendenza, quelli possono essere il fly and drive e soprattutto i prodotti tailor made che sono cuciti su misura per i nostri clienti perché in Master Group teniamo molto alla soddisfazione finale dei nostri clienti e quindi è veramente, è veramente importante per noi che ci sia una soddisfazione piena. Stiamo sedimentando la nostra presenza sul mercato americano, dal Nord America al Sud America abbiamo una forte, forte presenza che stiamo curando, davvero tanto. In ottica di curare anche questa presenza sul mercato americano stiamo partecipando alle fieri di maggior interesse. Il mese prossimo infatti saremo presenti ad un evento anche con Virtuoso in Guadalajara e Monterey. Saremo presenti anche per l'evento a Cannes, un evento di lusso ovviamente, in cui presenteremo sia Divinity che il nostro prodotto di lusso di punta, sia tutti gli altri prodotti e soprattutto le nostre novità perché c'è una grande novità anche. Qui in Master Group stiamo investendo nel marketing ovviamente in modo molto massiccio e stiamo investendo anche nel mercato americano, come dicevo prima, dal Canada fino all'Argentina. Siamo davvero molto presenti e stiamo ottenendo ottimi risultati anche. Se dovessi definire Master Group in tre parole direi dinamica, flessibile e un'estrema cura per i dettagli. Siamo i sarti delle vacanze italiane. Sero So Siamo i sarti delle vacanze relative le passano. Tutto